Salve a tutti ragazzi, qua Federico per Apple Tutorial Siamo qui oggi su un nuovissimo video dopo circa una settimana Vi chiedo scusa se non ho caricato, non carico praticamente da domenica Ma oggi volevo portarvi uno speciale, diciamo un video un po' particolare Oggi è primo d'aprile ma sempre riguardante la tecnologia Un unboxing di un prodotto che però per un contrattempo vi porterò domani Comunque oggi siamo qui per vedere come ampliare al massimo Il segnale della nostra rete wifi praticamente usando il nostro computer come router Iniziamo subito dopo la sigla Faccio qualche piccola premessa prima di iniziare Allora praticamente andremo a installare un programmino sul nostro computer Che ci permetterà di usare il computer come router wifi Router se non sapete che cos'è lo vedrete, vi apparirà qui nello schermo Comunque può capitare ad esempio che noi abbiamo il nostro router al piano terra Il nostro computer al secondo al terzo piano collegato diciamo via cavo E sopra in questo piano diciamo non prende wifi Con questo video andremo a risolvere questo problema trasformando appunto il nostro computer in un ripetitore wifi Non ci resterà altro che arricchiarci nel link che vi metterò in descrizione Che vi porterà in questo sito Osto hotspot Praticamente è il programmino che ci servirà per usare il nostro computer come hotspot appunto E' compatibile con windows 10, 8.1, 8, 7, XP, vista comunque anche con computer molto vecchi Ed è davvero un programma ottimo e leggero Clicchiamo sul pulsante download now Partirà immediatamente il download che ci metterà appunto 40 secondi in base alla volta Ci metterà davvero poco perché sono 3 mega Comunque aspettiamo che scarica e adesso lo andremo a installare subito Perfetto l'installazione è terminata Clicchiamo qui Clicchiamo su sì E clicchiamo, possiamo chiudere Google Chrome Clicchiamo sul pulsante install Sarà come potete vedere un'installazione velocissima davvero fulminia E qui una volta fatto il nostro programma si avvierà E questo qui come potete vedere Ha questo in cucina qui Si chiama FreeWiFi Perfetto Cliccando su questo pulsantino con la freccetta possiamo modificare il nome della nostra rete Io metterò PC di Federico Anzi Wi-Fi di Federico Perfetto Potremmo modificare la nostra Potremmo mettere la password che vuoi Mettiamo Apple Tutorial E praticamente cliccando sulla freccina le opzioni saranno modificate Il Wi-Fi si riavvierà E qui potremo vedere i nostri dispositivi connessi Adesso connetto un secondo il mio iPhone e vi faccio vedere che funziona Ok ragazzi mi sono appena connesso col mio iPhone e mi da qui Ancron device Qui possiamo rinominarlo Andrò a mettere l'esempio iPhone di Federico Così riconosco che è il mio telefono Perfetto Clicchiamo Adesso in questo caso non l'ho salvato Comunque Clicchiamo sempre sulla freccina qui per modificare Perfetto Funziona benissimo Io sul mio iPhone adesso riesco a navigare E qui potete vedere tutti i dispositivi connessi al vostro router del computer Adesso ragazzi Prima di chiudere Faccio una piccola premessa Questo tutorial funziona con tutti i computer che hanno una scheda Wi-Fi Quindi se avete un computer fisso portatile Che già di suo riesce a connettersi al Wi-Fi senza usare cavi Questo metodo funzionerà di sicuro Se per caso invece non ha la scheda del Wi-Fi Il vostro computer in questo tutorial non funzionerà Comunque Quindi tutorial riuscito Lasciate un bel pollice nel su Condividete per farmi crescere Condividete con i vostri amici Chiunque voglia una soluzione di questo genere E ci vediamo al prossimo video Bella regà